Buonasera. Buonasera. Ehi, cominciamo bene la settimana, cominciamo. Bell'uomo, di nuovo qui? Sì, sono venuto per leggere delle poesie. Ma scusi, ma hai l'intenzione di rimanere tutta la settimana qua? Ma non so se ce la faccio per tutta la settimana. E vabbè, resto. Ma guarda, ma non si preoccupi, noi possiamo fare anche a meno di questo momento lirico, ci abbiamo oltre a che pensare. Resto, resto. Resti, va bene, resti. Benvenuto tra noi, allora. È un piacere. Dalla mia sesta raccolta di poesie, dal titolo Coperta di Mogano. Caspiti, che allegria, eh? Vorrei farvi dono della più bella poesia di questa raccolta. Immagini. Il titolo Corrente Poetica Riparavi la lampada Che illuminava la serra Ma quel filo scoperto T'ha coperta di terra Aspita, caspita, mamma mia Mamma mia Penso che presto scriverò una poesia per lei No, guarda, non si preoccupi sto bene come sto vado io sciolà sciolà uomo nero sciolà è piacere vado a concludere il mio intervento per oggi con la lirica amarmi amarmi graniti colorati con le foto di ex malati che si sono addormentati sperando di essere svegliati pietre scolpite coprite le vite le vite diverse ugualmente finite anche la più ottimista di quel tipo che scrisse chiaro sulla sua pietra la vita è una merda caspita bella chiusura stia bene vado per i fatti suoi bell'uomo pubblicità spettatori pubblicità ecco qua tutti quanti vuoi mamma mia